Io ho letto questa mattina quel comunicato e io dirò sinceramente che devo dirvi questo a lei e a tutti coloro di voi che sono interessati. Quindi, leggete voi attentamente il comunicato e fate voi il vostro giudizio. Io non dirò una parola su questo. Credo che il comunicato parla da se stesso e voi avete la capacità giornalistica sufficiente per prendere le conclusioni. E' un atto di fiducia. Quando passi un po' il tempo e voi avete le conclusioni, forse parlerò. Ma io vorrei che la vostra maturità professionale faccia questo lavoro. Vi farà bene, davvero.